ciao in questo video faremo una sincro challenge guardate cosa hanno preparato si lanceranno da là allora scegliamo due salti faranno salto dietro raccolto e il salto non vi vedo vieni più vicina ok salto dietro raccolto diciamo salto avanti raccolto e poi un salto che scegliete voi originale ok diverso da tutti e il nostro giudice franco che è in postazione deciderà chi sono le due coppie migliori che faranno la finale per il primo e secondo posto va bene poi se sono talmente belle vediamo per il terzo quarto insomma podio vediamo chi sarà podio ok perfetto le coppie sono letizia con emma e mina con rosa emma con micola kate con giada micola ed emma pensano già di vincere perché già hanno il body uguale così ha detto prima e va bene da andiamo pronte chi inizia giudice chi vuoi vedere per prima caterina e giada caterina e giada allora vediamo se da qua riesco a vederlo anch'io attenzione partono dal salto indietro ok salto raccolto per emma e no scusami per giada e caterina fatto cosa fai franco gli dai un punteggio da 1 a 10 no alla fine decidi ok emma e micola sono pronte brave 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 era abbastanza sincronizzato solo quando siete arrivati in buca eravate un po non uguali sai sono pronte letizia con emma betta eh brave giudice hai visto erano perfette brave vediamo adesso emma e rosa brave brave eh solo quando sono entrate in buca un po diverse ma molto in sincronia ok andate tutte dentro a muovere un po la gomma piuma per favore per lavoro avanti dai muovete bene tutte 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 in buca brave dai muovete la gomma piuma dai muovete la gomma piuma ok ok tocca giadi e kate salto avanti non non ti ispira ma dai andate bravi era molto sincronizzato grazie sai che è bellissimo ecco quasi pronte emma e micola si concentrano ma che brava bravissima ahahah 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 perfetto allora sono pronte le ti mi dovete spostare davanti perché sennò non riesco a vedere quando ok Siano pronte, si concentrano Bravissime Dai vabbè che siete avversari Però un applauso A scopo ritardato Ok E Mina e Rosa si preparano Brave Completamente sprofondate Perfetto adesso ragazzi Attenzione che dovete creare Un salto a vostra scelta Vince ovviamente No Vince ovviamente quello più originale E quello più in sincro Ecco pronte Giada e Caterina Giada e Caterina Siete pronte? Attenzione Si preparano Bello, brave Ok Emma E Nicole Ciao Qualcuno ci viene? Sì, sì Ci lengo Ci viene ma cos'era? ah superman vabbè ma mi aspettavo un abitamento dai dai vediamo Leti Letizia vabbè a parte che Emma potete tenerlo anche per la finale Emma potete tenerlo anche per la finale Letizia e Emma si concentrano queste sono impazzite ma voi siete impazzite ma voi siete impazzite ma io non lo so ma mamma mia direi che ha vinto loro senza neanche fare la finale cioè ma veramente io non ve li faccio più fare questi giochi attenzione Emma Emma e Rosa mamma mia che brave bravissime ok allora giudice primo e secondo posto Emma e Mickey Emma e Mickey bravissime bravissime terzo posto loro Giade e Cate terzo posto bravissime bravi allora direi che il primo posto è stato aggiudicato non c'è nessuna finale perché siamo assolutamente certe della classifica grazie